Chiara Nasti, non posso andare da Barbara D'Urso a dare la mia versione del Cannagate Chiara Nasti confessa come la sua ospitata prevista domenica live per parlare del Cannagate si è saltata senza motivo La ex naufraga è molto provata dal coinvolgimento nelle accuse a Monte, dopo l'audio pubblicato da Striscia la notizia senza il suo permesso È un momento delicato per Chiara Nasti, coinvolta contro la sua volontà nel Cannagate dell'isola dei famosi che ha visto Eva Enger accusare Francesco Monte di aver fumato marijuana nel reality La fashion blogger, ritiratasi dal gioco dopo pochi giorni, prima ha annunciato misure legali in seguito alla pubblicazione di Striscia la notizia di un suo audio registrato a sua insaputa, poi ha confessato in un video su Instagram Stories di non aver potuto dire la sua versione dei fatti a domenica live Chiara Nasti non potrà difendersi in tv Queste le parole di Chiara nel filmato diffuso sui social, in cui confessa di essere psicologicamente molto provata dalla situazione Non è chiaro per quale motivo le sia stato impedito di parlare del Cannagate nella prossima puntata di domenica live, che da settimane ormai dedica spazio alla vicenda Chiara Nasti contro Striscia, la blogger annuncia azioni legali In un comunicato rilasciato nelle scorse ore, l'Annasti ha inoltre annunciato misure legali per tutelare la propria immagine in questo momento delicato La blogger ha accusato Striscia la notizia di aver diffuso senza la sua autorizzazione una prova audio da una conversazione con il marito di Eva Enger, Massimiliano Caroletti in cui dichiarava di aver visto sia Francesco Monte che Marco Ferri fumare marijuana Innischiata a suo malgrado in una situazione delicata che portare a cause legali, non vuole che il suo nome sia oggetto di assurde quanto illecite strumentalizzazioni e dinamiche mediatiche prettamente connesse ad inequivocabili obiettivi di audience televisiva Grazie per la visione! Grazie a tutti!